chiedo ad Ale che lui sa no non devi collegare niente intanto rivedo i nomi vi conosco basta mi dite poi sono io su tiktok tizio lo so male che vada proprio quindi quello è finito boss level mio fratello boss ho paura ok fermiamo il re malvagio attention to cosa oh brutto sto livello ok oh cazzo questo giocare con le dimensioni mi distrugge cazzo fai Mario porco Mario vi ho detto chi spama più mi piace a fine cosa avrà dei pacchetti di carte se arriviamo a un certo tot a fine mese chi ha più mi piace sulle live di tiktok si prende una sub regalo su twitch ah perché devo fare il su io premevo destra raga invece devo premere su perché è ridiale merda ma fangulo devo rifare tutto oh cosa non si fa per una vita ok materia oscura sta creando dei buchi fa attenzione a non caderci cazzo che consiglio no porca non servono i buchi tanto mi butto nel vuoto che cavolo grazie salvo buon lavoro e vabbè dai eh waffu e cavolo bella ok non salta perché non ha saltato perché non ha saltato che cosa c'ha quel cappello porca miseria non serve a nulla dovrebbe darti la regolazione nord est sud ovest ecco buttati nel buco proprio risolviamo tutto c'era al principio questo c'era al principio ok eh non ce l'ho la grotta è vero confermo vai vediamo che è la tappatrice più gravo il tappatore oh cavolo oh oh non me ne sono non me ne sono accorto ok è tutto chiaro qui ok fortissimo usa queste scale dove me portano? mi sa che c'è il boss mio fratello da qui è capita va bene deja vu ah ok ho capito un po' di roba oh cazzo ok però va un po' a capo ok posso dirlo ma me va bene mi fa eh vabbè dai ma non salta porco mario e vabbè sto dappando e mi è sparito tutto lo schermo per un momento no no mica ti bano eh ba non sapevo si potevano ballano per i tapping un po' di vabbè kinga ma allora vabbè ovviamente pure io vado a fuoco no vabbè voi non esagerate eh vabbè vabbè dai va bene va bene ma che è sta roba dai ma è impossibile è diventato distruttivo è tosto sto boss lol pensando quando fa quella cosa devo stare già predisposto su un cerchietto blu per farlo saltare però non devo perdere vite e vabbè allora ora fa ma allora ma non è vero ma non è vero proprio no vabbè è arrivato qui per sentito per qui quale e vabbè però così va bene un'altra vita su vabbè vabbè che devo fa ora e vabbè fa solo questo vabbè vabbè Non è vero No Eh vabbè dai No Come e perché passa attraverso No vabbè Il primo assoluto è uscito per Wii Non so quale è il primo residente L'ho uscito per Wii Aspetta Credo sia Umbrella cronica Cioè proprio per Wii dici Non dici remaster e due cose varie Ok raga Concento è fatta Mi sono orientato un minimo Datemi la vostra forza Restando qua sopra Lo zero hai trovato? Ah lo zero era Originariamente uscito per Gamecube Quindi Ok È uno dei capitoli che non ho completato Conosco la storia e tutto però Ciuccia Dai cazzo Dai dai Datemi forza Cazzo Le palle Eh Questa cosa è brutta Grande Ballerino proprio Ma dove va? Eh muori cazzo E muori cazzo È buono come prezzo È buono come prezzo eh L1 devo comprarlo per la vita Però se lo recupero per Gamecube è meglio Let's gooo Tu 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 Guarda lo facciamo con stile ora No Devi farlo con stile Mario Mortissimo cazzo Tap 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 Oggi ormai il meme è tap 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 Caldo Caldo The final is vicining Minchia Grazie a condivisione Edward Io vedo Ok Ok The last glassing Finalmente l'abbiamo trovata Guarda il disco ai tuoi piedi Ok Quella è l'energia delle super stelle necessaria per raggiungere il centro dell'universo Secondo le super stelle il numero diminuisce Mi mancano 14 Ciao Mary Quanto tempo Come stai Let's go verso i finaling